cross dollaro canadese contro il franco svizzero m15 ora vediamo questo schema che si è creato per l'appunto sulla time frame a 15 minuti ogni candela graficata alla durata di 15 minuti devo parlare veloce perché fondamentalmente abbiamo una velocità d'azione nel mercato in questo momento e quindi siccome il prezzo effettivamente potrebbe stornare alla rialzo in maniera molto molto rapida per come si sta sviluppando la situazione devo essere particolarmente rapido nella parlare benissimo veniamo a questa situazione che si è creata con una congestione intorno alle 6 e 7 del mattino poi una velocità con lo spike a fare da picchetto intorno alle 9 45 del mattino lo storno del prezzo al ribasso come possiamo vedere quindi a chiamare fuori anche tutti i colori quali si erano breccati al rialzo stop loss per molti il prezzo poi a questo punto torna a salire sopra i massimi quindi questa volta va a prendere sì i brecchisti al rialzo a prendere anche gli stop loss di coloro i quali si erano messi al ribasso nuovo picchetto nuova discesa e va a prendere gli altri ordini che sono qui sotto sul minimo che si era formato in precedenza e da questo minimo delle 15 e 45 tornerà sui massimi di giornata 0 72 40 più o meno pip più pip meno e su un piccolo conto oltre alle posizioni che ho fatto vedere in mattinata di lungo raggio c'è anche la posizione in atto in questo momento il buy a 0.05 quindi mezzo mini 8 per tornare sui massimi di giornata come detto qualora al prezzo poi vada ritoccare il minimo l'ultimo minimo ossia quello delle ore 16 eccolo qui 16 su time frame a 15 minuti poi se andiamo sul time frame a un minuto lo vediamo anche nello specifico fondamentalmente il quel minimo quando è stato formato e più o meno erano le 16 04 torniamo a 15 minuti la situazione è questa quindi il classico movimento sviluppato dalle mani forti congestione prima direzionalità diretta diretta da una parte diretta significa vado in maniera decisa ed è quello che è successo intorno alle 8 e 30 9 del mattino ovviamente poi che cosa succede succede che il prezzo storna ritorna sopra i massimi e ritorna sotto i minimi per poi tornare nuovamente a breve sopra i massimi finte contro finte in continuazione per fare entrare e nel tempo stesso balzare fuori uscire i trader piccoli medi che siano dal mercato capendo questi movimenti non è complicato arrivare a guadagnare nel mercato su ogni cross su ogni cambio su ogni titolo su ogni azione non è assolutamente complicato non è assolutamente un problema questa quindi la situazione sulla cross tra la dollaro canadese e la franco svizzero m15 è stata un'altra parte di 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 un'altra parte